Salve, sono Urbano della Sane Moreno con Svaghe Audi di Cucicchio. Oggi vi presento una nuova vettura arrivata nel nostro parco usato. Si tratta di questa bella Golf serie 7 ed è un 1.6 turbodiesel 105 cavalli dell'anno 2013 di questo bel colore metallizzato. Intanto vi facciamo vedere da queste immagini lo stato d'uso della carrozzeria esterna che si presenta sempre in un mondo veramente eccellente, bella e brillante. Passiamo ad elencare un attimino gli accessori di questa vettura che sono intanto i suoi sensori di parcheggio posteriori e naturalmente anche anteriori. Troviamo i suoi c'è chi lega da 17 pollici con gomme estive sempre a un buon 60% quindi sono praticamente a posto per essere sfruttate, fari fendinelli. Quindi una macchina tra l'altro allestimento High Line dove troviamo anche i suoi interni misti in tessuto alcantarie. Passiamo a descrivere proprio gli interni dove troviamo la tappezzeria che si presenta tra l'altro in un modo decisamente molto molto bello. È stata come il nostro suono lavata, igienizzato la lavorazione che noi facciamo. Quindi veramente uno spettacolo, veramente pulita, bella e profumata. Infatti non ci sono strappi, non ci sono usure, non ci sono buchi di sigarette. Passiamo ad elencare un attimino quello che è gli allestimenti interni. Abbiamo il suo cambio a cinque marce manuale, il suo climatizzatore automatico a temperatura differenziata, l'autoradio con il cd che è stato messo nel cassettino. Volantino multifunzione dove si riesce a manovrare sia il bluetooth che ha la vettura sia il cruise control. Questa macchina ha percorso solamente 120 mila chilometri, veramente quindi veramente pochi. Tutti tagliandati da un'officina Volkswagen. Quindi anche con chilometraggio certificato e tagliandati. Passiamo ora ad illustrare come verrà consegnata la nostra vettura. Quindi prima di essere venduta verrà messa in officina. Abbiamo una check list di 110 controlli da fare quindi deve passare proprio un check up severo. Deve essere tutta funzionante a partire dai freni anteriori, freni posteriori, gomme, tutta la strumentazione interna. Verrà controllato anche naturalmente il valutore dove anche questo deve essere, non ci devono essere plastiche rotte, tubi e cose di ogni genere. Quindi deve essere torno a dire tutta funzionante anche perché la macchina ci verrà messa sopra anche una garanzia di 12 mesi che copre le parti principali della vettura con tra l'altro la possibilità di portarla a 24 mesi. Le nostre vetture possono essere acquistate anche con pagamenti rateali a tasse agevolate quindi possiamo presentare più di una scursione di pagamenti. Questo verrà fatto in sede. Dopo questa breve presentazione passiamo a un giro di prova su strada. Partiamo per il nostro giro di prova. Saliamo sulla nostra vettura e la prima cosa che ci viene da vedere, come vi ho illustrato prima, è la pulizia interna della macchina, la tappezzeria, il suo cruscotto, tutti i componenti, i tastini, tutto sotto controllo e veramente anche molto belli da vedere. La nostra prova a cosa serve? Serve a capire il funzionamento proprio generale della vettura su strada. Se ci sono rumori particolari, fastidiosi, come si comporta il cambio, la frizione, scatola di guida, sospensioni. Partiamo dal cambio e frizione. In questi primi metri io che sto guidando mi viene proprio da capire che hanno un ottimo funzionamento. Molto preciso il cambio, molto soffice la frizione, la scatola di guido in questi incroci la sento molto precisa, non ci sono giochi e quindi un'ottima sicurezza anche per quanto riguarda la guida su strada. Passando alle sospensioni le andiamo a provare proprio nella classica strada dove purtroppo ci sono le buche dove mettono proprio dove viene sollecitato l'ammortizzatore, i braccetti e i gommini delle sospensioni. Anche qui in questo caso non ci sono rumori particolari quindi risponde molto bene per quanto riguarda il fondo stradale. Quindi una macchina ottima sotto ogni punto di vista, ripeto, anche perché controllata per quanto riguarda la manutenzione. A questo punto vi posso anche dire una primizia sul nostro far vedere le macchine. Se siete naturalmente di lontano dal nostro punto vendita e quindi in un primo momento impossibilitate a venire a vedere la vettura di persona, possiamo prendere tramite telefono un appuntamento specifico, un orario specifico e farvi noi in diretta una videochiamata tramite whatsapp. Vi facciamo vedere la macchina, ve la illustriamo in ogni suo punto, possiamo fare una prova su strada specifica per voi. Quindi prima di venire sapete già com'è la vettura in tutti i suoi particolari che è molto importante. Dopodiché prendiamo un appuntamento e in tutta sicurezza ci vediamo e ne parliamo qui di persona. Bene, torniamo al nostro punto di partenza e andiamo ad illustrare le ultime cose dopo aver fatto questa obiettiva. A questo punto non mi rimane che dirvi andate sul nostro sito diretto autosane.it dove troverete tutte le fotografie della macchina, troverete la scheda tecnica con tutte le caratteristiche, troverete il prezzo, cosa che non diciamo nel video perché non ci sembra giusto. Seguiteci poi al nostro indirizzo social sani moreno srl sia facebook che instagram troverete tutto il nostro modo di lavorare, le nostre ultime novità per quanto riguarda tutti i nostri prodotti sulle macchine usate, aziendali e anche le vetture. A questo punto vi ringrazio per l'attenzione, vi aspettiamo in tutta sicurezza presso il nostro punto vendita di Fucecchio e come diciamo sempre alla prossima vettura!